Ciao a tutti, oggi vi parlo di una delle mie abitudini preferite per il benessere, per mantenersi giovani in salute, per preservare al meglio la nostra salute ed agevolare tutti tutti i processi riparatori del nostro organismo. Ebbene, quest'abitudine, questo trucco che dovremmo fare nostro è quello di andare a letto entro le dieci di sera. Ebbene sì, sto dicendo una cosa veramente impopolare perché la nostra vita ci impone dei ritmi contrari ai ritmi di madre natura, ma i processi riparatori più importanti per il nostro corpo, il nostro cervello, si svolgono tra le ore 22 e le due di notte. È quindi opportuno, e lo dice anche la medicina ayurvedica, opportuno andare a letto entro le 22 per essere già addormentati alle ore 22. E soprattutto in questa fascia oraria si produce l'ormone della crescita. Allora voi mi direte, ma a me magari non viene sonno. Non viene sonno perché, come ho già illustrato in altri video, noi non stiamo producendo la melatonina, che è quell'ormone che dà lo start al sonno serale. Non lo produciamo perché ci sono nella civiltà moderna alcuni elementi che impediscono alla melatonina di essere prodotta quando deve essere prodotta, perché in natura la melatonina viene prodotta quando tramonta il sole, poco dopo il tramonto. Quindi noi per reinserire questi ritmi naturali nella nostra vita, cosa possiamo fare? Innanzitutto dopo le ore 18 non utilizzare più la luce dei computer, degli smartphone e nemmeno essere esposti a luci troppo intense, perché anche solo la luce che c'è nelle nostre case. Quindi se non dopo le 18 ma almeno dopo le 19 cerchiamo di tagliare fuori dalla nostra vita lo smartphone o comunque almeno di programmarlo sul programma night shift, luce calda, in quanto la luce blu è quella peggiore in questo senso e in casa cerchiamo di non accendere 3000 luci. Teniamo anche un'atmosfera più intima che male non fa, magari durante l'ora di cena si crea un'atmosfera un po' più intima e cerchiamo di cenare magari in questo periodo invernale alle 7 di sera. Anch'io non sempre ci riesco, però l'ideale serve quello di andare a letto avendo già digerito bene, quindi non solo consiglio una cena comunque facilmente digeribile, ma l'orario ideale potrebbe essere 7-7 e mezza se il nostro obiettivo è andare a letto entro le 10. E un altro consiglio, come fate a capire se siete gufi o allodole? Se siete gufi fate parte di quel 30% della popolazione che diciamo per natura tende ad andare a letto più tardi veramente, ma magari non siete gufi, magari siete allodole e non lo sapete semplicemente perché voi avete forzato i ritmi della vostra vita e quindi diciamo esponendovi comunque alle luci, pc, smartphone eccetera, magari stando al computer fino a tardi, svolgendo attività frenetiche fino a tardi, ovviamente non riuscite a produrre la melatonina, quindi la sfida che vi propongo oggi è provare a risettare i vostri ritmi per vedere se entro un mesetto, due mesi effettivamente voi riuscite a sentire il sonno che arriva entro le ore 22 e ovviamente vi alzerete la mattina presto perché l'uomo quando non c'era l'elettricità cosa faceva? Andava a dormire quando faceva buio e si svegliava quando sorgeva il sole, quindi comunque potreste abituarvi ad andare a letto presto e svegliarvi magari un po' prima, c'è chi si sveglierà sempre alla stessa ora perché magari già adesso si sveglia presto per andare a lavorare e c'è chi si sveglierà un po' prima perché magari ha bisogno di qualche ora di sonno in meno, ricordo però che tra le 7 e le 9 ore comunque di sonno sono le ore normali, ci può essere una differenza che va dalle 7 alle 9 ore individualmente ma meno di 7 ore fanno male, meno di 7 ore veramente non si adattano a nessuno, forse a uno 0,001% della popolazione e quindi è impossibile che adesso tutto il mondo sia diventato come questo 0,001. Quindi cosa vi sfido a fare? Allora vi sfido a cenare, ad anticipare la cena verso le ore magari 19 e vi sfido a non utilizzare le luci degli smartphone e in casa ad utilizzare luci più tenue, più basse e provare quindi ad anticipare di giorno in giorno l'orario in cui andate a letto fino ad arrivare alle 22. Ovviamente un altro consiglio è quello di aver svolto se non tutti i giorni ma con regolarità dell'attività fisica, non attività fisica che ci dà adrenalina alle 8 di sera, ok? Ma magari diciamo certe attività più intense averle fatte in altre fasce orarie oppure se nel tardo pomeriggio si fa attività fisica, si può fare un'attività, ok? Anche un po' di tonificazione, esercizi, yoga, ma non attività troppo adrenaliniche. Il giusto con cui il nostro fisico si stanca quel tanto da scaricare le tensioni del giorno e desiderare naturalmente di riposare. Quindi fatemi sapere, io ho lanciato questa sfida, questa challenge, quindi vediamo un po' come va, vediamo chi ha il coraggio di mettersi alla prova e di vedere se ci sono degli effettivi cambiamenti nella sua vita, di vedere se si trova meglio, ma bisogna dare tempo all'organismo di appunto abituarsi e vedere cosa succede se proviamo ad adottare i ritmi di madre natura perché noi veniamo, ripeto, da uno stampo, un ritmo di vita molto artificiale. Per forza se io tengo le luci accese, sto al computer, sono in uno stato di frenesia, per forza non produco la melatonina, per forza io non riesco a rilassarmi, andare a dormire, stessa cosa se sono pieno di pensieri e preoccupazioni, ma questo lo tratterò in un altro video perché chiaramente noi possiamo anche cercare di seguire certi ritmi, ma se abbiamo ansie e preoccupazioni faremo veramente fatica a dormire e quindi questo farà parte di un altro video, di altri video. Per oggi è tutto, quindi nei commenti io aspetto un po' di riscontri, un po' di feedback, e se vi piacciono i miei video iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video.